Non riesco a distogliere il pensiero da te. E' impressa nella mia mente la fotografia scattata dai miei occhi nel mentre guardavi l'orizzonte. Nel vedere il tuo profilo su quella collina davanti a me ho sfruttato centimetro dopo centimetro il tuo corpo, le spalle al mio, apprezzando la sinuosa bellezza di te. Nel voltarti, quasi assecondando un richiamo, apprezzare la sensualità della tua femminilità nel vedere l'eccitazione e la tua voglia di far l'amore comparire sui tuoi seni. Preso da quel momento, nonostante la presenza riottosa di tanta gente, sublimare quella voglia in un intrigo di corpi calamitati, appartandoci in un affratto per liberare una sessualità repressa in una vita. Intrigo di corpi. Questa è la voce di Mauro Manza. 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 Questa è la voce di Mauro Manza.